Buonasera a tutti, anche al cagnolino che ho visto in sala, questa sera non si può proprio dire che non c'era neanche un cane. Ringrazio molto l'associazione Croncolitis di avermi invitato, mi sono messo a disposizione, come già prima diceva Maria Grazia, in sostituzione del mio amico e collega Andrea Badaracco che è deceduto in montagna per un tragico incidente. Ok, allora pancia e ossa, mi è stato chiesto di parlare di pancia e ossa, di mici e quindi qui ho preferito mettere la foto del gatto di mio figlio piuttosto che un intestino e ossa dall'altra parte. Per cercare di localizzare un po' il problema, come mai ci sono dei legami fra reumatologia e gastroenterologia, penso sia utile una breve classificazione dei problemi reumatologici per capire quello che ci interessa, cioè le malattie degenerative dell'apparato locomotore non sono molto interessanti per quel che concerne la gastroenterologia, neppure quelle delle parti molli, neppure le malattie metaboliche, neppure malattie complesse. Quello che ci interessa proprio per la diagnosi concomitante dove ci sono dei link fra reuma e gastroenterologia sono le spondilartriti, sono le malattie infiammatorie reumatologiche, sono quelle che possono prendere sia l'asse vertebrale, quindi delle malattie infiammatorie assiali, spondilartriti, quindi malattie infiammatorie della colonna, oppure delle malattie infiammatorie periferiche, le artriti, cioè articolazioni infiammate, le entesiti, sono le inserzioni tendine infiammate e le dattiliti, le infiammazioni delle dita che diventano un po' come dei salsicciotti. Quindi ci interessiamo adesso di spondilartriti e cosa si intende per spondilartrite, spondilartropatia? In questo grafico vedete come un contenitore che indica diverse possibilità di spondilartrite. Ci sono le spondilartriti assiali, come abbiamo detto prima, non radiologiche, cioè sono dei dolori di carattere infiammatorio a livello della colonna, senza che ci siano già delle alterazioni sulla radiografia, oppure delle spondilartriti anchilosanti, cioè la spondilartrite anchilosante è il morbo di Bechterev, che è un po' il papà delle malattie reumatologiche infiammatorie, oppure una spondilartrite indifferenziata, magari soltanto un'artrite o soltanto una sacroelite, senza tutto il contesto più globale della spondilartrite anchilosante. Poi ci sono le artrite con i mici, l'artrite psoriasica e l'artrite reattiva. Tutte queste patologie reumatologiche si possono associare, come abbiamo visto prima, a malattie infiammatorie croniche nell'intestino, all'uveite e anche all'apsoriasi. Quindi se un medico reumatologo, che mi sono immaginato questo qua, è in presenza di un paziente che presenta problemi assiali, cioè dolori assiali infiammatori, o un'artrite periferica, come per esempio si vede qua un ginocchio gonfio, o delle entesiti, cioè un'infiammazione a livello dell'inserzione tendinea, molto frequentemente a livello achilleo, o una dattilite, come qua in fondo vedete un dito proprio a salsicciotto, oppure anche solo artralgie, cioè dolori articolari senza nessuna manifestazione clinica, quel medico lì che ha davanti questo paziente dovrebbe chiedersi o informarsi presso il paziente se non ha un qualche sintomo che potrebbe evocare un amici, in modo da poi collaborare assieme al gastroenterologo. Il gastroenterologo ha la stessa roba, se ha un paziente che ha una malattia infiammatoria dell'intestino, sia una colitocerosa o un Crohn, dovrebbe venire in mente di chiedersi se non ha magari anche qualche problematica a livello del colonno, delle articolazioni. Adesso riprendiamo un pochettino il contenitore con le diverse spondilartropatie e ci soffermiamo un po' di più sull'artrite associata alla rettocolite che può essere di due tipi, cioè le mici possono avere delle artriti, cioè ricorda ancora un'infiammazione articolare di un'articolazione, artrite di tipo 1 che è la più frequente, cioè sono il 90% dei pazienti con mici, cioè il 90% dei pazienti che sviluppano un amici, l'artrite è monoarticolare, cioè un'articolazione sola viene colpita, al massimo 5 articolazioni, meno di 5 articolazioni, l'artrite è asimmetrica, è migrante, può essere magari una volta in ginocchio, poi passa la caviglia, poi il piede, poi torna il ginocchio, è specialmente localizzata sulle articolazioni portanti, ginocchia, caviglia, piede, anca, meno a livello della mano, gomito, spalla, la durata è circa 5-10 settimane e quest'artrite monooligoarticolare è concomitante con l'infiammazione intestinale, cioè avviene quando il paziente è in puse intestinale, la durata è 5-10 settimane. L'artrite di tipo 2 è molto meno frequente, 6-11%, circa il 10%, e quest'artrite di tipo 2 è una poliartrite, cioè prende più articolazioni, grandi piccole articolazioni, specialmente le metacarpofalange, che sono queste articolazioni della mano. La durata può essere da mesi a anni e l'artrite è piuttosto simmetrica e di solito non c'è una concomitanza con i sintomi intestinali, cioè possono avvenire queste artrite indipendentemente anche all'infuori della puse intestinale, così come anche l'artrite assiale, se ci sono delle manifestazioni artritiche a livello della colonna, anche quelle possono avvenire non in concomitanza con la manifestazione intestinale. E poi ci sono le entesiti che spesso si manifestano a livello achilleo, come vedete in questa ultima foto. Qua vedete, in questa artrite del ginocchio a sinistra, ci sono anche delle alterazioni cutanee da psoriasi perché frequentemente la psoriasi può essere o più frequentemente la psoriasi può anche essere una manifestazione con un link sia con la reumatologia che con la gastroenterologia. 50% di pazienti con mici, specialmente quelli che hanno le forme assiali, quindi non sono la maggior parte dei pazienti, hanno una positività HLA-B27 che è una costellazione genetica che per esempio nel morbo di Berteref, abbiamo visto prima nella spondilartrite anchilosante, questa positività si trova in più del 90% dei pazienti. E nelle donne quello che si vede, cioè la manifestazione reumatologica, spesso è magari soltanto una sacroiliite, cioè un'infiammazione della sacroiliaca, che è questa articolazione qua fra il sacro e la colonna e nient'altro. I sintomi intestinali, come abbiamo già sentito prima, sono associati o possono essere associati con oveite, psoriasi, veritema nodoso e pioderma gangrenoso e naturalmente la diagnosi deve fare al gastroenterologo con l'endoscopia. Adesso parliamo un pochettino di epidemiologia, guardiamo un po' com'è la frequenza. Allora nella spondilartrite anchilosante, abbiamo detto al morbo di Berteref, circa dal 5 al 10% di quei pazienti di reumatologici presentano delle mici evidenti. Ma fino al 50%, dal 25 al 49% di pazienti con spondilartrite anchilosante hanno manifestazioni subcliniche, vuole dire che loro stanno bene ma il gastroenterologo all'endoscopia vede già delle lesioni. E se si guarda a livello istologico, il paziente sta bene, il gastroenterologo non vede niente, se però fai una biopsia random trovi delle infiammazioni microscopiche da malattia intestinale cronica fino al 60%, visto degli studi anche fino al 70% e non è proprio niente. Se invece prendiamo le mici, cioè i pazienti con mici, circa un terzo ha manifestazioni reumatologiche. 8-14% artriti e fino al 40% l'artrite si manifesta prima della malattia reumatologica. E le artralgie, gli studi sono un po' discordanti ma sono molto frequenti. Frey in Rheumashvitz dice, che è una rivista, dice che quasi tutti i pazienti che hanno un amici durante la loro vita hanno avuto delle artralgie, cioè dei dolori articolari senza manifestazioni infiammatorie evidenti. Quindi abbiamo visto che ci sono dei link importanti fra gastroenterologia e reumatologia, per questo è importante la collaborazione tra il reumatologo, il gastroenterologo, il dermatologo e l'oftalmologo. Anche per arrivare a un trattamento comune che tenda conto dei bisogni del reumatologo e dei bisogni del gastroenterologo. Prima, prima del 2000, i farmaci che c'erano a disposizione per il gastroenterologo erano gli steroidi, la mesalazina, i CS DMART che sono i DMART convenzionali. DMART vuol dire disease modifying anti-reumatic drugs, sono farmaci anti-reumatici. Il reumatologo aveva anche gli steroidi, anche i CS DMART, il metotrexate, le flunomide, la salazofilina, l'idrossiclorochina. Prima 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 c'erano perfino i sali d'oro che poi sono stati abbandonati per effetti collaterali. Prima 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 c'era anche la penicillamina, anche quella è stata eliminata per effetti collaterali. E dal 2000 circa sono scoperti questi farmaci biologici che vanno bene sia per gastroenteroma, i DMART, i DMART biologici, gli anti-TNF, gli anti-interleuchina 12-23, gli anti-interleuchina 23 e le molecole, i targeted DMART come gli anti-JEC, come ha già detto prima la dottoressa Kessler. Se guardiamo qui un pochettino nella tabella, vediamo come la sulfasalazina c'era già negli anni 60, poi la zatioprina nell'81, il metotrexate nell'88 e poi sono stati scoperti i primi biologici in giro al 2000 e poi più in là si passa al tofacitinib che sono gli anti-JEC e negli ultimi anni proprio arrivano queste nuove molecole che sono veramente mega interessanti sia per il reumatologo che per il gastroenterologo. E qui ne aveva già parlato un pochettino prima la dottoressa Kessler, ma per capire un po' che molecola, che farmaco fa bene per che patologia, è importante sapere che appunto i nostri globuli bianchi, i linfociti in particolare, quando c'è in giro un'infiammazione producono delle interleuchine e volontieri producono delle interleuchine a dipendenza dall'organo, cioè ci sono delle interleuchine organospecifiche più o meno, per esempio nella pelle, quando c'è un'infiammazione nella pelle c'è in giro molta interleuchina 17, ci sono anche le anti-interleuchine, l'interleuchina 17 è molto, nelle articolazioni viene prodotto molto anti-TNF, ma anche l'interleuchina 17 e anche le altre. Nelle entesi anche l'interleuchina 17, l'interleuchina 12, 23, TNF, eccetera. E vedete invece nello scheletro assiale, quando lo scheletro assiale è infiammato, lui produce, cioè si infiamma per via dell'interleuchina 17 e le TNF, ma non per via dell'interleuchina 23 e della 12, 23. Quindi se voi date un farmaco a qualcuno che ha un'infiammazione della colonna, che è un anti-interleuchina 23, non serve. E vedete che nell'intestino invece l'interleuchina 17 non è l'interleuchina più responsabile dell'infiammazione, anzi, l'interleuchina 17 nell'intestino, qui invece nel gatto ho messo comunque l'intestino, l'interleuchina 17 può addirittura difendere l'intestino dall'aggressione di batteri e funghi. E quindi se si tratta un crono, una colite con l'interleuchina 17, ci sono delle situazioni dove è possibile, però non è il medicamento di scelta, perché potrebbero addirittura insorgere delle infiammazioni con un'anti-interleuchina 17. E questa è una diapositiva riassuntiva che rende conto un po' dei farmaci che ci sono a disposizione. Qui al centro avete il nome della sostanza, la dalimumab, l'infliximab, questi sono gli inibitori del TNF, qua a sinistra c'è il nome della marca e adesso per gli anti-TNF sono stati trovati tanti biosimilari che costano un po' meno. Vedete che qua sopra ci sono le diverse patologie, l'SA è il borbo di Bechterew, la spondilite anchilosante, questa è l'artrite psoriasica, cioè teniamo conto di un'artrite con manifestazioni periferiche, poi c'è il morbo di Crohn e poi la colite ulcerosa. Vedete che la dalimumab, cioè l'umira e i suoi biosimilari funzionano molto bene per tutte e quattro le patologie, sia per l'intestino che per la reumatologia, reumatologia sia periferica che assiale, l'infliximab che poi il remicaed anche. L'interner certo non funziona bene perché non è un anticorpo, è una molecola di fusione, è una proteina di fusione quindi non è un anticorpo completo, quindi non funziona benissimo per il morbo di Crohn e la colite ulcerosa. Se prendiamo gli inibitori dell'interleuchino 12-23, loro sono funzionantissimi per il morbo di Crohn e la colite ulcerosa e le artriti periferiche, ma abbiamo visto prima che non funzionano per la colonna perché la colonna non si infiamma per via dell'interleuchino 12-23. Adesso ci sono nuovi studi che dimostrano come gli inibitori dell'interleuchino 23, il 3, il fialoschirisi funzionino bene anche per la colite ulcerosa e il morbo di Crohn, non funzionano bene per le manifestazioni assiali e penso che pian piano qui dove c'è la X adesso perché non sono ancora riconosciuti verrà messo un visto perché penso che verranno poi riconosciuti prossimamente visto che ci sono studi che dimostrano la buona efficacia di quei prodotti. Gli inibitori dell'interleuchino 17, abbiamo visto prima, non sono i medicamenti di prima scelta per i problemi intestinali, mentre lo sono sia per le artriti periferiche che per quelle assiali. Gli antagonisti dell'integrina invece non funzionano per nulla sui problemi reumatologici mentre vanno molto bene per l'intestino e i nuovi anti-jack sono una grande promessa, il RINVOC, l'UPADACITINIB funziona benissimo per tutto e il TOFACITINIB non è riconosciuto per il morbo di Crohn però funziona molto bene per la colite ulcerosa. Quindi ci sono davvero, bisogna fare un po' un puzzle fra manifestazioni reumatologiche e gastroenterologiche, vedere cosa ha il paziente e poi vedere che far va a scegliere per dare il massimo di successo al paziente. Ora, questa era solo una piccola traccia di quello che si può dire in un quarto d'oretta su queste cose, ci sarebbero tantissime altre cose da dire e magari vediamo dopo alla tavola rotonda. Grazie. Grazie dottor Gosia.